Il disagio è quello di allungare i percorsi, ma soprattutto non è tanto la lunghezza del percorso, quanto la viabilità estremamente difficoltosa e pericolosa che si incontra. Però l'altra parte non c'è, non c'è soluzione. Al via i lavori di restauro su Ponte Buriano, in provincia di Arezzo, l'opera romanica costruita torna all'anno 1200 che fa da sfondo al celebre quadro di Leonardo da Vinci, La Gioconda. L'intervento ha preso avvio lunedì 4 settembre. I lavori di consolidamento dei rostri della struttura che attraversa il fiume Arno dovrebbero terminare entro il 31 ottobre. In questa prima fase andiamo a restaurare tutti i rostri, che sono gli elementi importanti e fondamentali della statica del ponte. Metà del rosto, fino alla prima buca pontaia che lei vede sotto il ponteggio, è una struttura portante piuttosto resistente. Sono elementi murari abbastanza grandi e dentro c'è riempiti con malta militare. La parte superiore invece è un riempimento di muratura, non un sacco, ma una muratura grossolana e è stato rivestito con un paramento murario piuttosto esile. Un paramento murario che varia dai 25 ai 10-12 cm, quindi hanno mescolato questa struttura. Per cui è una struttura piuttosto debole. Noi dovremo un attimo ricuscire, rintegrare all'interno tramite l'utilizzo di diatoni internamente e di malte particolari che dovranno legare bene la parte esterna con il paramento murario. Il tratto in questione della strada provinciale Sette Ponti, una delle più trafficate vie di comunicazione della provincia retina, che collega Rezzo con il Valdarno, dunque resterà chiuso completamente al traffico per circa due mesi. Ovviamente sono stati individuati percorsi alternativi che però hanno causato qualche disagio. Da Castiglione Fibocchi ad Arezzo ci vuole almeno un quarto d'ora in più. Con il semaforo al Castelluccio è lo scomodo che la strada è stretta comunque sia e non ci passano, non si scambiano le stesse le macchine, quindi è uno scomodo enorme. La mia figlia, la ieri manca poco, una signora di Montadosso. È la via stretta, non passa la Santa Margherita. Capisco la persona che subisce il disagio, però un ponte del genere se noi non si interviene questo viene giù, ha delle grosse, non problemi statici, ma di manutenzione a dei grossi bisogni di intervento. Lei guardi quei rossi che sono tutti aperti, per cui se noi non interveniamo il ponte da quel punto è chiuso definitivamente e dopo è un problema. L'intervento in questione, finanziato dalla Regione Toscana con il contributo di circa 700.000 euro, è solamente il primo di quelli che dovranno essere realizzati sul ponte.